Se è vero che esiste un metodo per apprendere velocemente che funziona e non sto parlando necessariamente del nostro è altrettanto vero che esiste un metodo per apprendere velocemente che non fa apprendere velocemente quindi che non funziona perché al suo interno contiene dei buchi, delle falle, dei difetti e questi difetti ci impediscono letteralmente di studiare velocemente è un paradosso e allora noi oggi questi difetti li correggiamo, li cancelliamo tutti com'è con una gomma e in un giorno solo raddoppiamo l'accuratezza e la velocità di studio avete sentito bene? Ho detto raddoppiamo e raddoppiamo Bentornati Memoviani in questa puntata in cui la parola d'ordine è apprendere velocemente e dentro la fine della puntata se la guardate tutta scopriremo che velocemente significa tre cose senza pianificazione, senza fasi e senza divisioni e complessità credo che questa frase che ho appena detto vi stupisca un po' se è così scrivetemelo nei commenti e ditemi cosa ne pensate e iniziamo a vedere come rendere il nostro metodo che abbiamo imparato a scuola all'università con i video youtube in alcuni corsi se che non ci soddisfa un metodo per apprendere velocemente davvero credetemi che anche io in passato paragonavo lo studio, l'apprendimento a un'attività fisica o meccanica fisica come uno sport, il nuoto, la corsa o meccanica come la cucina questo mi portava a credere che il cervello fosse come un muscolo che se allenato adeguatamente e in maniera intensa con le giuste tecniche mi avrebbe portato a dei risultati incredibili o come fosse una serie di ingranaggi che se ben oliati mi avrebbero permesso di usare delle procedure passo passo in fasi appunto che sempre mi avrebbero portato a studiare velocemente è un fraintendimento che molti di noi hanno, il cervello non è un muscolo, non è un ingranaggio non funziona per sequenze e per passaggi, è un organo invece iper complesso che funziona come una rete e se facciamo gli errori che sto per dire si blocca proprio come succedeva a me quando studiavo per gli esami immerso nell'angoscia agli esami sommerso dall'angoscia e allora adesso vediamo come fare per passare dal lento, insicuro e complicato a veloce, sicuro e semplice e poi se vi piace approfondiamo i vari punti nelle prossime puntate uno per uno intanto colpo di spugna numero uno eliminiamo la pianificazione tutte le tecniche di gestione del tempo complicate, gestione del calendario, strategie di organizzazione e tempi morti per reperire il materiale vanno tutte annullate dal primo giorno si inizia a studiare per l'esame quindi zero pianificazione eliminiamo da subito una settimana di tempo morto in cui ce la prendiamo molto comoda cercare di capire cosa studiare, da che materiali e come e invece dal primo giorno risparmiamo già una settimana di preparazione e ci mettiamo già a cavallo e lo capisco che questo può essere visto come una cosa un po' confusionaria soprattutto per quelli di noi che sono abituati a voler tenere le cose sotto controllo il problema è che quel controllo, ovvero quella settimana iniziale per esempio di pianificazione e di organizzazione la paghiamo poi durante la preparazione dell'esame perché se abbiamo un mese a disposizione una settimana se n'è già andata per pianificare organizzarci e reperire il materiale e ce ne restano solo tre invece in quella settimana anche se in maniera non perfetta studiamo iniziamo a approfondire la materia e mentre andiamo avanti con le pagine a capire che cosa, come e perché studiarlo mentre gli altri avranno passato una settimana a organizzarci noi dopo la prima settimana avremo già fatto un quarto dell'esame e non ci resterà che continuare a stare in sella e essere costanti con lo studio nelle settimane successive come avrete già intuito il secondo colpo di spugna è eliminare le fasi di studio qualunque metodo che divida il processo di apprendimento veloce in fasi non lo rende veloce, lo rende più lento perché il cervello non funziona come dicevamo in fasi per tecniche come degli ingranaggi le fasi più pericolose sono quelle che dividono l'elaborazione dalla memorizzazione il cervello non la capisce questa divisione il cervello studia elaborando memorizza, passatemi la parolaccia ricorda mentre capisce capire e ricordare quindi qualunque materia state iniziando a affrontare o state affrontando in questo momento buttatevi sul capire capite tutto, capire in profondità e ricorderete già molto molto di più si stima intorno a un terzo 30-40% in più attenzione anche qui eliminiamo la fase di elaborazione per iscritto l'elaborazione non si fa per iscritto si fa oralmente si capisce parlando il cervello funziona bene quando è libero da schemi perché gli schemi mentali e a volte anche quelli scritti sono lenti e rigidi e il cervello di sua natura funziona in modo flessibile e veloce cosa vi sto dicendo? divieto assoluto da questo momento almeno se volete un metodo per apprendere velocemente davvero di elaborare le risposte per iscritto quindi all'interno di schemi o riassunti risposte alle domande più frequenti del professore o agli argomenti più frequenti chiesti all'esame risposte rigide appunto scritte in cui elaboriamo scrivendo e non pensando quindi che scriviamo mentre leggiamo il libro mentre cerchiamo di capire il libro è un disastro ci vuole tantissimo tempo e il cervello si ritrova appunto inscatolato in quelle risposte rigide che dicevamo prima invece che cosa facciamo? come ho detto anche in tanti video precedenti in tante puntate elaboriamo a mente cerchiamo di capire il libro e quando abbiamo finito di capire un paragrafo, un capitolo possiamo schematizzare guardate anche riassumere non importa basta che lo facciate come abbiamo visto nelle puntate precedenti sulla schematizzazione la presa di appunti e anche riassunti prima capisco a mente o parlando poi in questo modo ricordo tutto quello che devo ricordare ho quasi e fisso alcune cose molto sintetiche su carta solo se è necessario ma non per tutti sarà indispensabile fase dannosissima è quella delle letture cioè fare più di una lettura cercate di ridurre le letture a una o al massimo due per cose veramente difficili fatele lentamente non leggete velocemente il cervello non capisce un tubo iniziate dal primo capitolo l'ho detto mille volte e leggete piano e cercate di capire e mano a mano di ricordare quello che state leggendo poi costruite la conoscenza per blocchetti l'uno sull'altro andando avanti col libro ma non leggete velocemente poi rileggete velocemente poi cercate di capire e poi leggete un'altra volta velocemente perché non serve a niente i tempi si moltiplicano ultima fase che è come mettere i piedi in due secchi di cemento è quella di provare a ripetere durante la preparazione dell'esame nei giorni prima rispetto all'esame come se si fosse davanti al professore che è diventato quasi banale dire che è dannoso lento difficile ci scarica e ci richiede un sacco di tempo da oggi per il prossimo esame sperimentiamo che cosa vuol dire non ripetere come se si fosse davanti al professore mai ripeto né mentre studiamo né i giorni prima dell'esame al limite possiamo fare delle ripetizioni molto brevi ogni tanto ma devono essere ipersintetiche e mai e ripeto mai dobbiamo cercare di memorizzare ripetendo o di ripetere per ricordare perché il cervello anche in questo caso non funziona in questo modo e qua veniamo finalmente al terzo colpo di spugna che cancella la complessità un metodo che si basa su delle fasi divise di pianificazione lettura elaborazione scrittura memorizzazione e tentativi di esposizione davanti al professore è fallimentare di sua natura perché visto che è fatto così per fasi come abbiamo detto all'inizio costringe il cervello a una schematizzazione che non gli è naturale il cervello di conseguenza rallenta anziché velocizzarsi e si ritrova contaminato dall'ansia i giorni passano velocemente lui resta lento o spinge magari a momenti sulla velocità ma quella velocità lo porta a ricordare di meno a capire di meno a fare le cose come si dice a raffazionate e non arriviamo semplicemente pronti all'esame è stata questa l'esperienza sia mia sia di tanti ragazze e ragazzi che si sono approcciati al mondo del corso Memovia dopo aver seguito magari degli altri corsi e con cui abbiamo capito che questi tre colpi di spugna erano necessari da subito per mettere il punto rispetto a quello che avevano fatto nel passato e che non aveva funzionato a noi del Memovia Origin le cose che ho detto in questa puntata sembrano quasi scontate perché sono la base per creare il nostro metodo per apprendere velocemente all'interno del Memondo ma per molti di voi magari non lo sono magari mentre parlavo vi siete accorti perché fate qualcuno di questi passaggi e non avevate idea che fossero dannosi e siccome noi facciamo parte di questo gruppo di persone di questa community che sta diventando di fanatici di velocità nello studio mi è sembrata una buona idea dirvele tutte e ascoltatemi bene perché ve lo ripeto se fate i tre colpi di spugna nel giro dei prossimi tre giorni entro tre giorni voi raddoppierete la velocità di apprendimento certo magari all'inizio non sarà facile abbandonare il vecchio metodo le vecchie abitudini che si sono consolidate nel tempo per prove e errori è anche vero che quando iniziate a provare un metodo che veramente vi permette di apprendere velocemente il cervello la vedrà come una cosa molto naturale e inizierà a usare solo quello e se avete già iniziato a strappare i vostri fogli con soprattutto la pianificazione dell'esame e degli esami anche divisa per giorni e le vostre guide per fasi suddivise del vostro vecchio ormai metodo di apprendimento sono molto contento vuol dire che questa puntata vi è servita se è così un like condividetela e voglio sapere nei commenti che cosa ne pensate di quello che ho detto perché sono aperto anche alla discussione e al confronto e a dimostrare quanto la psicologia a sua volta ha già dimostrato che le cose che ho detto funzionano e funzioneranno sempre in base a quello che mi scrivete nei commenti nelle prossime puntate ne parleremo e approfondiremo ancora quindi iscrivetevi al canale e fate click sulle notifiche così non ne perdete neanche una ricordate che io vi rispondo sempre e anche questo il mio ringraziamento per guardare le mie puntate per aver guardato anche questa fin qui ne stanno per apparire altre due che mi piacciono un sacco che vi saranno sicuramente utili mentre le guardate mi iscrivete nei commenti vi iscrivete al canale Memovia ed entrate a far parte della community dei memoviani io continuo a studiare a fare ricerca a sperimentare da solo e con gli allievi del Memovia Origin ci vediamo qui molto presto